Tra poco andrà in onda nero e sul bianco, settimanale di fatti accaduti nelle macche. Grazie a... Tra più di 40 anni nel settore dell'automotive, storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia in via Botticelli e di Iesi in Viale della Vittoria, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto e incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335 77 67 224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43 e a Iesi in viale della Vittoria 3. Concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971. Passione in movimento. Il nostro più cordiale saluto cari amici, ben trovati all'appuntamento della domenica con Nero Subianco. Vediamo insieme i servizi in scaletta quest'oggi, andremo ad Ancona, troppi rischi, un bar apre e poi richiude subito dopo. La storia di Andrea e Magdalena, due fidanzati che si sono rincontrati dopo due mesi e mezzo. Vedremo il perché. A Castel Raimondo vengono effettuati tamponi su tutta la popolazione. Poi andremo ad Urbania, dove si può adottare un nonno. Ad Ostra, dove invece ci sono dei tablet per gli anziani. Ed infine parleremo di un'operazione di sanificazione delle casette dei terremotati. Questi sono i titoli. Allora, iniziamo subito dal primo servizio. Troppi rischi legati soprattutto, dispiace dirlo, al comportamento poco attento da parte degli avventori. E così, insomma, dopo aver riaperto, come tanti altri, lunedì scorso il proprio locale, un bar-ristorante, Federico ha deciso di richiuderlo subito dopo. Tatiana Cursi dal videogiornale del 21 maggio. Non siamo noi che possiamo garantire la pubblica sicurezza. La pubblica sicurezza va garantita dallo Stato, dalle istituzioni, dalla polizia, dalla polizia comunale e soprattutto dalle responsabilità individuali di ognuno. Le immagini parlano chiaro. Prima dell'emergenza coronavirus, il Raval, locale in Piazza del Papa ad Ancona, che fa ristorazione ma anche aperitivi ed intrattenimento, era un locale di ritrovo per ragazzi. Federico Pesciarelli, il titolare, ha tentato di riaprire martedì sera dopo due mesi di lockdown, ma è dovuto tornare subito sui suoi passi, limitandosi solo al servizio di takeaway da lui ribattezzato Around the World. Non ci sono infatti le condizioni di sicurezza. Moltissimi clienti, moltissimi avventori sono rispettosi delle regole e capiscono l'importanza di rispettarle. Altri, probabilmente dopo un mese di lockdown e quindi di solitudine, nel ritornare in uno dei luoghi che per fortuna è un luogo per eccellenza da Ancona, dell'aggregazione, uno dei luoghi principali di aggregazione giovanile, hanno frainteso, si sono comportati in maniera non proprio adeguata. Il locale ora può fare 60 coperti e gestire due persone che acquistano la consumazione al bancone per poi consumarla fuori, circa il 60-70% in meno del volume di lavoro che gestiva prima. Ma il personale, nei weekend circa 10 persone, ha già molte incombenze. Far rispettare le persone le prenotazioni, fare sedere, rigenizzare lo spazio, prendere i numeri di telefono dei commensali, insomma, fare tutto il servizio invece, ovviamente, normale della serata. Occorrerebbe insomma assumere almeno uno steward che facesse rispettare le regole, ma si tratterebbe di ulteriori spese. Sono invece le istituzioni a dover garantire la presenza delle forze dell'ordine che siano un deterrente ai comportamenti sbagliati per la sicurezza di tutti, clienti e personale. E adesso una storia bella, come forse ce ne sono anche tante altre. La storia di Andrea e Magdalena. Sono fidanzati, sono residenti uno nelle Marche, l'altro nell'Umbria. Non si vedevano da due mesi e mezzo un sottile confine che li ha tenuti distanti. Invece si sono rivisti poi nei giorni scorsi. Vediamo come è andata nel servizio di Marta Vescovi dal videogiornale del 19 maggio. Due anni insieme, tanti progetti e la passione condivisa per i viaggi. A dividerli meno di 55 chilometri, tanti quelli che bisogna percorrere per spostarsi tra Gualdo Tadino in Umbria, dove vive lei, e moglie di Maiolati nelle Marche dove abita lui. Poco più di mezz'ora d'auto, poi l'emergenza sanitaria che ha bloccato tutto e due mesi e mezzo senza vedersi. Per Andrea, 27 anni, e Magdalena, 21, una eternità riempita di telefonate e videochiamate. Poi l'allentamento delle restrizioni e nelle scorse ore la possibilità di incontrarsi a metà strada proprio al confine tra Marche ed Umbria. È venuta l'idea a me di provare a trovare il punto preciso del confine, quindi mi sono messo un po' alla ricerca, fino a quando non ho trovato il cartello e da lì ho mandato la posizione a lei che mi ha raggiunto, che siamo stati lì una mezz'oretta tenendo le dovute distanze, comunque sia, e niente, ci siamo rivisti dopo circa due mesi e mezzo. Qual è stata la prima cosa che gli hai detto quando l'hai visto? Eh, mi si è mancato, è normale. Ma nemmeno un abbraccio c'è stato? Eh no, purtroppo no, abbiamo deciso di comunque sia mantenere sempre le dovute distanze, quindi siamo stati a circa un metro l'uno dall'altro. La felicità di rivedersi, di parlarsi, nonostante la necessità di trattenere la voglia di abbracciarsi, nel rispetto delle norme anti-Covid, poi il ritorno ognuno a casa propria, ma con tanti progetti per quando finalmente anche il divieto di superare la linea del confine regionale cadrà. Prima che ci fosse il coronavirus, il nostro progetto per quest'estate e autunno era di andare in Kenya, però adesso diciamo che se è tutto bloccato, vediamo con l'evolversi del virus dove potremmo andare. E nel progetto futuro c'è di avvicinarci, comunque sia di andare a vivere insieme un giorno. Intanto ad aiutarli ci sono i social, anche se certo non è come guardarsi negli occhi. Speriamo che questo virus finisca il prima possibile in modo tale che ci potremmo riabbracciare presto. Tante cose vorrei dire, innanzitutto vorrei tanto abbracciarlo e vorrei tanto che fossi qui vicino a me. Cambiamo decisamente scenario per andare a Casterraimondo, dove è partito un monitoraggio su tutta la popolazione, non con i test, bensì proprio con i tamponi. Lo ricordiamo che Casterraimondo è stato pesantemente colpito, soprattutto nella sua casa di riposo, dove si sono registrate diverse vittime. Stefano Brecciaroli dal videogiornale del 21 maggio. Sicuramente sono essenziali per capire questo Covid, se gira nel nostro paese o meno e quanti casi abbiamo. Di sicuro bisogna essere consapevoli che dobbiamo convivere con questo virus e quindi è giusto sapere se uno l'ha contratto o meno. La piena collaborazione dei cittadini di Casterraimondo per un monitoraggio del coronavirus attraverso test diagnostici e tamponi. Tutto grazie all'impegno dell'Università di Camerino e del virologo Andrea Crisanti, docente dell'Imperial College di Londra e dell'Università di Padova. Il Comune ha ritenuto necessario impegnarsi direttamente in un'attività di monitoraggio e controllo del diffondersi della pandemia sul proprio territorio per evitare degenerazioni che hanno purtroppo già fatto segnare un alto numero di vittime in percentuale alla popolazione residente. Abbiamo ritenuto opportuno fare uno screening sulla popolazione e quindi ci siamo rivolti all'Università la quale ha presentato questo progetto che sicuramente può darci dei risultati utili ma non solo alla nostra cittadina, un po' per tutti anche in questa fase di ripartenza quindi per vedere se il contagio si è fermato oppure sta andando avanti. Ricordo che è proprio il Comune in primis che finanzia questo progetto, quindi al momento abbiamo un 10% della popolazione testata che è stata proprio selezionata in base ai criteri che sono stati dettati dal professor Crisanti. Le attività prevedono tra l'altro l'applicazione del tampone diagnostico per la ricerca della presenza del coronavirus in una prima fase di una popolazione di residenti che abbia avuto contatti con alcuni focolai già identificati. La ripetizione dell'analisi dopo nove giorni dalla prima applicazione e poi il controllo esteso agli altri. Una volta che avremo i dati i medici di base saranno informati e su questa base potremo verificare la curva epidemiologica a Castellemondo e tenere sotto osservazione la situazione. Al momento faremo 400 campioni. La speranza è di poter trovare finanziamenti per poi poter eventualmente estendere in analisi a una popolazione più larga e poter seguire nel corso del tempo appunto la curva epidemiologica perché chiaramente vogliamo essere sicuri che questa fase 2 sia gestita nel territorio dalla popolazione nella maniera migliore per poter minimizzare gli effetti di questa pandemia. Parliamo ancora dei nostri anziani. Bella iniziativa ad Urbania nel Pesarese dove si può adottare un nonno per tenergli compagnia. Vediamo come con Marta Vescovi dal videogiornale del 17 maggio. Proprio quando il mondo si chiudeva in casa per affrontare il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria ci sono state amministrazioni comunali che hanno messo in campo progetti ed iniziative per far sentire più unita la comunità. È il caso di Urbania nel Pesarese che di idee ne ha realizzate tante, ognuna mirata a sostenere una categoria diversa, tutte insieme pensate per non far sentire nessuno solo. Tra questi progetti adotta un nonno che ha messo in contatto i più anziani con i giovani. Un contatto telefonico che in tanti casi si è trasformato in legami profondi. La prima sperimentazione che è stata fatta è stata fatta tra una bambina figlia di un assessore e la mamma di un altro assessore anziana. Questa sperimentazione è andata così bene che queste due persone ancora si sentono per telefono. Tramite l'anagrafe abbiamo la lista di tutte le persone anziane di una certa età. Abbiamo chiesto a persone di qualsiasi genere, a famiglie, di donare un attimo del proprio tempo. Tutte le persone di Urbania che vogliono partecipare a questo progetto possono farlo, anzi è bello farlo perché dedicare un po' del proprio tempo per una persona che magari è sola, non può uscire, magari sta anche male, è bello. Può contattare direttamente i servizi sociali al 0722 313 152 o mandare semplicemente un messaggio su Facebook del Comune, su Messenger oppure contattare direttamente l'assessore ai servizi sociali che ha seguito l'iniziativa Annalisa Tannino. Non solo per gli anziani è invece stato pensato il progetto Emporio Urbania che ha messo in rete ben 85 attività commerciali, negozi di alimentari, bar, meccanici, fotografi, lavanderie e attività di vendita di prodotti per la casa e la persona che dall'inizio del lockdown hanno portato a domicilio prodotti e servizi dall'aperitivo all'abito lavato e stirato. Le attività sono state aiutate a fare una propria pagina Facebook per far vedere i propri prodotti e le proprie attività. È stato fatto un volantino ed è stato portato in tutte le case con la lista di tutte queste attività. Oggi è ancora valido questo progetto perché ci sono tante persone che non possono ed è bene che ancora stiano a casa, che hanno patologie o comunque sono anziane. Questo è un servizio molto bello, la disponibilità di queste attività commerciali che è la città che contraccambia perché sostiene le nostre attività commerciali. E poi, attivamente, il primo progetto dell'amministrazione di Urbania, per cui, grazie a Facebook, ogni giorno tutta la comunità è stata coinvolta in un ricco calendario di eventi in diretta, dalla messa alla lezione di ginnastica, fino alla sessione di cucina tenuta dalla cuoca più esperta della città. Tanti progetti, che anche quando si potrà tornare tutti alla normalità, di sicuro ad Urbania un cambiamento lo avranno prodotto. Ad abbracciarsi saranno anche coloro che prima dell'emergenza neppure si conoscevano. E adesso invece andiamo dagli anziani ospiti della casa di riposo di Ostra. Qui per farli sentire meno soli, ma allo stesso tempo proteggerli. Si sono studiate altre soluzioni. Soluzioni, Tatiana Cursi, dal Videogiornale del 16 maggio. La donazione di un tablet per permettere contatti virtuali tra gli anziani ospiti e le loro famiglie. Anche così la casa di riposo e residenza protetta Fondazione Moroni Antonini Morganti di Ostra, nel Lanconetano, è riuscita a non avere casi di coronavirus nella sua struttura. Il dispositivo è arrivato grazie ai soldi raccolti con l'asta a cena con i nostri campioni, l'asta virtuale organizzata da un giovane, Alessandro Animali, che ha ricevuto circa 100 pezzi appartenenti a campioni dello sport, come Vincenzo Nibali o Dorotea Vierer, e con i quali ha raccolto oltre 8.000 euro. La casa di riposo è una struttura complessa con 90 ospiti, in parte autosufficienti, in parte parzialmente o totalmente non autosufficienti, e circa 60 unità di personale. A febbraio gli ingressi si erano già ridotti ad un familiare ad ospite, solo in camera e per un tempo limitato. Dal 9 marzo poi, la chiusura totale. Altra scelta difficile è quella di non allentare troppo le maglie da lunedì. Ancora difficile accogliere nuovi ospiti, forse i familiari potranno riprendere qualche visita con dispositivi di protezione. Ma gli autosufficienti probabilmente non potranno ancora uscire per passeggiate, recarsi in negozi o dalle loro famiglie. Il tablet ci è particolarmente utile perché la comunicazione con le famiglie è sicuramente stata uno dei problemi più grandi da affrontare in questo momento. L'ANSTA, realizzata con la collaborazione del gruppo sportivo di Pianello di Ostra, ha permesso di donare anche 154 colombe al comune di Ostra per i possessori del buono spesa per l'emergenza coronavirus, ad un centro ricreativo per ragazzi disabili, alla casa di riposo. Accanto a un prezzo di grande dolore, di grande sofferenza che è stato pagato, c'è stata anche però la possibilità di mettere in evidenza questa bellezza della gente che è pronta ad esserci ogni volta che ce ne ha necessità. Altri otto tablet sono destinati all'ospedale di Senigallia, alla associazione marchigiana traumatizzati Andrea Onlus, alla casa di riposo di Senigallia, fondazione Operapia Mastai Ferretti. Sono stati fatti anche acquisti per ospedali toscani e di Bergamo. Una parte consistente del denaro raccolto andrà poi alla Croce Rossa italiana. Una bella operazione di solidarietà con la sanificazione delle casette delle popolazioni terremotate, quindi una sanificazione non solo per il coronavirus ma, bisogna dirlo, anche contro quell'umidità contro la quale combattono a tempo le persone che sono residenti in queste casette. Ma sentiamo il servizio di Marta Vescovi ancora dal videogiornale del 19 maggio. L'emergenza sanitaria provocata dal covid è arrivata a complicare la situazione già difficilissima che vivono da oltre tre anni marchigiani che risiedono nelle zone terremotate ed in particolare nelle soluzioni abitative cosiddette di emergenza, ma che invece, per troppi, sono ancora l'unico tetto sulla testa. In diverse SAE si sta anche manifestando di nuovo il problema delle muffe e il resta a casa è suonato come l'ennesima beffa. A dare una mano, come sempre, fin dalle prime scosse, le associazioni di cittadini come la Terra Trema Noi No di Camerino, che ha coinvolto la cooperativa di comunità Camon per offrire gratuitamente un trattamento di disinfezione a chi vive nelle SAE dell'entroterra maceratese. Abbiamo questa problematica delle muffe nei pavimenti che già sono stati sostituiti l'anno scorso, abbiamo rifatto le analisi dell'aria nelle muffe, già davano primi problemi, ora ne abbiamo rifatte altre e stiamo attendendo risultati. Quindi diciamo, ecco, l'aria che si respira già non era di buona per sé e quindi per di più con questa problematica del covid facciamo un doppio servizio. Un piccolo investimento che ha fatto la cooperativa di comunità di Camerino, che si chiama la Camon, abbiamo acquistato un'attrezzatura unica nel suo genere che ci permette di sanificare, di disinfettare gli ambienti molto velocemente. Da qui nasce l'idea di poter applicare questa tecnologia all'interno delle SAE, perché riusciamo ad intervenire senza creare troppo disturbo agli abitanti. Grazie alla Terra Tremono e No possiamo farlo anche gratuitamente. Chi volesse usufruire del trattamento deve inviare un messaggio al numero 331-223-3904, indicando nome, cognome, località e numero della SAE. Per l'associazione e per la cooperativa, nate dopo il sisma e composte da persone che le scosse le hanno vissute sulla loro pelle, un modo di dimostrare che uniti si può fare molto, al di là dei ritardi e dei tempi lunghi della politica e della burocrazia. Il problema è che la gente è sfiduciata, ormai c'è sfiducia sia nelle istituzioni, di sfiducia completa. Poi non c'è più neanche quella sensazione di rabbia, che poi è quella che ti permette di combattere, perché poi se non c'è più la sensazione di rabbia si passa allo stato della depressione, che potrebbe essere anche quella più pericolosa. Per di più anche un isolamento a casa, dentro 40 metri quadrati, capiamo che la situazione inizia a diventare impossibile. Noi ci siamo detti chiaramente, se puoi fare qualcosa, farlo, non aspettare, perché abbiamo aspettato tanto per quanto riguarda il sisma e come diceva Diego, ci siamo in qualche modo scoraggiati, molti di noi hanno perso la fiducia. Dobbiamo invece essere più forti, dobbiamo insistere e dobbiamo mettere a disposizione quello che abbiamo. Noi abbiamo questa tecnologia, la mettiamo a disposizione della comunità che ha subito il terremoto. E con questo servizio, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero Subianco, il nostro approfondimento che tornerà come sempre domenica prossima. Allora a me non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centromarche. Arrivederci. Nero Subianco in collaborazione con Abbiamo attraversato momenti diversi nella nostra vita, fatti di felicità, spenseratezza, a volte di preoccupazione e tristezza. Abbiamo vissuto cambiamenti epocali che hanno modificato le nostre abitudini, delle nostre famiglie e della società. Abbiamo adottato una scala di valori dove la competizione e il profitto occupano un posto importante. Abbiamo affrontato i problemi quotidiani senza quella giusta dosi di coscienza civica, alcune volte in preda ad un fatalismo e ad una rassegnazione innaturale. Ora però, all'improvviso, un nemico sconosciuto ha fatto vacillare tutte le nostre certezze e la nostra quotidianità. Con il riavvio del sistema dovremo comprendere inevitabilmente che gli esseri umani hanno bisogno di correre insieme, senza divisioni, senza colori né egoismi, consapevoli che la vera forza proviene dal rispetto delle regole, dalla conoscenza, dalla solidarietà, dalla cooperazione e dallo stare uniti quando si presentano difficoltà. Noi del CAF Tutela Fiscale, aderendo da sempre e con immenso orgoglio a questi principi, poniamo al primo posto gli interessi, le necessità e, come è scritto nel nostro nome, la tutela di migliaia di sedi sul territorio, di centinaia di dipendenti e collaboratori altamente specializzati e di un immenso numero di soggetti assistiti, lavoratori, pensionati, nuclei familiari e disoccupati. Grazie a tutti voi per aver scelto il CAF Tutela Fiscale e grazie anche agli operatori che lavorano quotidianamente in prima linea. A loro va il plauso più grande.